ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di nick e giutto andiamo a parlare delle match up tax ormai argomento fisso del nostro canale come un appuntamento fisso non trovate niente in questi pacchetti, fai vedere lo spessore dell'album un po da lontano quasi bello pieno oggi spacchettiamo un eco pack speriamo di trovare qualcosa ormai abbiamo aperto il calendario delle a20, una cosa migliore dove l'abbiamo trovata? nell'eco pack chissà si ripete? abbiamo trovato leggende black age andiamo a vedere cosa continua bene ragazzi eccolo qui l'eco pack ci siamo prezzo di 4,99 distruggiamo la scatola che ormai ne abbiamo piene le scatole adesso è vuota ma allora qua cos'è che c'era non mi ricordo anche tu c'era quella c'era un po' di tutto c'era un po' di tutto partiamo con questo quelle classiche vai sì dai partiamo con questo vediamo il coupon per voi il coupon dai regaliamo ormai saranno questi giratti sono speciali non lo so ultimi video sulle match up tax vai giovanni e reina del bruce d'hortum mario hermoso dell'atletico madrid hermoso mianzu del bayern monaco mianzu ta remi del porto remi remi milan scrignan dell'inter del paris saint germain rodrigo bentancourt del tottenham logo della roma braganza dello sporting no si dello sport in lisbona lisbona si poi abbiamo warrior nicolas sulle eh sulle ma quante volte troviamo su sulle eh la voglia mc tomini forse anche lui trovate lì trovato finito stai tony cross tony cross vedi e poi abbiamo andrea silva e top 6 heritage e poi di un giorno giovanile prima bustina di questo ecco pack delle andata è andata secondo pacchetto coupon per voi intanto io giro le carte e abbiamo cofal vladimir cofal del west ham edena hazzard del real madrid joaquin del albetis hart del celtic acerbi della lazio dell'inter grillis del master city grillis conate del liverpool conate pepe metti un po' di pepe con la parte di pepe damier damier bay dell'everkusen vai vai poi abbiamo match winner match winner minicius jr anche questa l'ho trovata già stopper testhagen testhagen non parliamo di lui che questo c'è ogni due e poi cosa abbiamo next gen skip quindi schippiamolo schippiamo saltiamolo schippa e ora abbiamo il pacchettino bianco pacchettino bianco dell'eco pack match a touch vediamo 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 qui abbiamo coupon poi abbiamo furokashi del celtic scendi della juventus il crc poi abbiamo sergio canales del albetis poi abbiamo overtonghen del benfica donnarumma stopper non mi ricordo la prima forse ci manca poi abbiamo next gen gutiere e poi limite di uribe ce l'abbiamo già no perchè non l'abbiamo mai trovato edizioni oro si trova solo nell'eco pack e quindi non l'abbiamo mai trovata non l'abbiamo negli altri ecopack no bene anche qua niente blackage niente scie vabbè ormai non ci arriviamo neanche più andiamo saluti andiamo i saluti bene ragazzi questo video giù dal termine dell'eco pack delle mech attacks prima di ricordarvi cosa fare però ci teniamo a fare un grosso abbraccio alla turchia alla turchia tutta la maturazione per la tragedia che è successo poco tempo fa un grosso abbraccio da niente giù da niente giù a tutti i turchi e ora come sempre come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campbellina lasciare il like al video commentare sotto questo video e seguirci sui social link in descrizione mi raccomando fatelo fatelo ciao ragazzi